Tim è un installatore che progetta impianti fotovoltaici. Sul posto discute dei dettagli con il cliente. Tim spiega le potenzialità e la capacità dell'impianto fotovoltaico al cliente. Per garantire che tutto vada liscio, poi con il montaggio, Tim deve essere molto preciso nella registrazione dei dati e deve tenere conto dei singoli componenti di diversi produttori. A peggiorare le cose, ogni produttore ha i propri programmi e processi di pianificazione. E ogni volta tutti i dati devono essere reinseriti separatamente. Tutto questo ha portato Tim al suo limite. Ma ora Tim ha scoperto la nuova funzionalità K2+. Ora deve inserire i dati una sola volta per pianificare il sistema di montaggio. E con un solo clic anche gli inverters. Perché Base può trasmettere i dati al software di progettazione del produttore dell'inverter senza che Tim li debba nuovamente inserire. Questo permette a Tim di risparmiare un sacco di tempo. Tempo che preferirebbe investire nella qualità del suo lavoro. I clienti di Tim lo apprezzano molto. Vuoi essere anche tu più efficiente nella pianificazione degli impianti fotovoltaici? Allora prova subito K2+. A presto. A presto. A presto.